La leggenda del pianista sulla pizza. Cucchiaino dorato o scemo chi legge. Mescoliamo gli embrioni di focaccia e coviamoli per svariate ore. Una volta pronti nutriamoli con sciroppo di ruggine e vai d'impastatrice. Un fungo di sale e accertiamoci che non ci sia covidi. Litighiamo con l'impasto e lavoriamo il barbapapà sul ripiano d'acciaio. Da schizofrenici esperti prima lo schiotteggiamo e poi vai con un bacino coccoloso perché così cresce senza traumi e lievita bene. Uno schizzo d'olio e massaggino ayurvedico. Scoppiamo una big bubble, sfiliamo un coltello dalla punta arrotondata con lo stesso pathos di Clint Eastwood in un film di Sergio Leone. Farciamo con mozzarella di burro, speck e pornacchio, il porno pistacchio. Leccata di 180 gradi per il controllo qualità ed ecco come si nutre un coccodrillo del Nilo. È buona, è buona per se è buona. E grazie al cazzo.